L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello è il testo più comico mai scritto da Pirandello. Una grande farsa del 1919, ancora attualissima, anche se un po' amara, di quel classico umorismo che viene definito pirandelliano. È interpretato da Geppi Gleieses, Marco Messeri e Marianella Bargilli, con la regia di Giuseppe Di Pasquale.